Bentornati al canale Dalli, oggi siamo qui per la recensione di NXT Deadline 2022 non c'è kickoff quindi andiamo subito con la main card, primo match, Women's Iron Surveyor Challenge match giusto per aprire l'evento con questo storico primo match che si rivela una stipulazione interessante grazie al numero di partecipanti a costato al discorso dei punteggi ma soprattutto al tempo limite di 25 minuti che non è esagerato come minutaggio che non annoia tutte e 5 le lottatrici hanno ben figurato mostrando il loro parco mosse anche se con molte poche mosse a più donne cioè mosse combinate con Zoe, Cora e Roxanne che sono sicuramente quelle che hanno figurato di più 2-3 bei spot sono stati ma il match aveva la grande pecca della prevedibilità essendo Roxanne Perez l'unica face del match e vittoria che ovviamente va a lei anche se è l'unica che è stata schienata due volte quindi il match vinto da Roxanne Perez qual è il discorso? il discorso è cioè lei era l'unica che poteva vincere e infatti è rinto in questo match mancava almeno una face in più perché non può essere che Mandy Rose e Hill e in questo match sono 4 Hill e una face e allora perché vince la face? non mi è piaciuto per niente come è stato gestito questo incontro ma soprattutto ma Nikita Lion non funziona? cioè in questo match c'era Zoe Stark che è in falda con Nikita Lion e non mette Nikita Lion perché? e così avevi anche una face in più aperta e così apparentemente se ci fosse stata Nikita Lion avrei fatto vincere a lei questo match qua il discorso che invece facevo prima è che Roxanne Perez ha vinto ma l'abbiamo vista essere schienata è quella che è stata schienata più volte ed ha vinto quindi c'è un po' un discorso di immaginario che stona un po' con il tutto comunque match ha cominciato a dare un 7 ci sono stati pochi punti perché ci sono stati solo 5 punti e Kiana James è l'unica che non ha fatto nessun schienamento è l'unica che è rimasta a 0 dopo abbiamo Roxanne Perez 2 Joy Stark 1 Coraged 1 e anche 1 Indie Hardwell andiamo avanti con il secondo match Alba Farquand o Underdown strano mettere due match femminili consecutivi ma comunque questo match ha il problema della scarsa costruzione e della poca partecipazione del pubblico anche se di per sé il match ha fatto il suo cioè con le due che hanno regalato una contesa molto accesa sin dall'inizio con qualche bello spot è interessante il discorso che l'abito è moribondo e ha fatto la maledizione voodoo in Isladon Isladon e lo spot dormiente dell'angolo scoperto che regala la vittoria a Isladon in un incontro che poteva dare di più ma secondo me la guerra tra questi due è appena iniziata non dico che tra questi due mi aspetto un match cinematografico ma ci potrebbe anche stare però mi aspetto che questo sia il primo di almeno altri 3-4 incontri tra le due match venito dalla donna match ha cominciato da un 6 e mezzo essendo questo l'unico match femminile in singolo non essendoci ovviamente escluso l'Iron Survivor Channel ma quello era più donne non essendoci niente in palio di base perché non c'era Mandy Rose mi aspettavo qualcosina di più però questo match ha avuto la sapienza di tipo non è un uno contro uno normale c'è il discorso del discorso dell'arbitro che sputa sangue quella cosa lì che ti potresti ricordare anche tra un po' di più non è il solito classico uno contro uno e questa cosa devo dire che l'ho perciata particolarmente mi aspettavo sicuramente di più e in più non ho capito la posizione di questo match subito dopo un altro match femminile terzo match cominciamo a divertirsi Pretty Deadly che difendono gli NXT Tag Team Championship contro il New Day gran bel tag team match con il New Day che suor classa i campioni di coppia nei primi 7-8 minuti con esperienze e continue manovre tag team di velocità successivamente i Pretty Deadly pareggiano i conti con astuzia e scorrettezze divertentissimi gli spot del twerking e lo spot della cintura a Lady Guerrero e molto riuscito il falso finale con Xavier Woods colpito dalla cintura si si aspettava qualcosina in più dei campioni di coppia soprattutto a livello tag team di mostre tag team ma l'esperienza di New Day è troppa e gli porta addirittura a una sorprendente vittoria tra la festa generale del pubblico esploso sempre molto partecipe nel match nuovi campioni e New Day giustamente triple crown champion questo match però secondo me con una miglior storyline un po' più costruita sarebbe stato meglio esempio cioè manca costruito due settimane di più cioè una costruzione di tre settimane con i Pretty Deadly che dicevano noi siamo il futuro, voi siete il passato non avete mai vinto questi titoli non so lo aspettavano cioè una costruzione nuova scuola contro vecchia scuola invece alla fine ha avuto una costruzione di una sola puntata ed ha un po' il problema di tutto l'evento la costruzione dei match però ecco match che mi ha molto divertito match vinto a New Day quindi nuovi campioni di coppia match ha cominciato a dare un 8 o meno quindi i New Day che diventano 14 volte campioni di coppia se non sbaglio 14 o 13 Kofi Kingston che va di debito nell'Olimpo dei campioni dei lottatori che hanno avuto titoli di coppia visto che ha vinto qualsiasi tipo di titolo di coppia esistente in questo pianeta bel bel match mi ha molto molto divertito e ripeto con una costruzione più lunga e con un po' più di Pretty Deadly sarebbe stato forse uno dei migliori tech di messe dell'anno e i due spot comici mi hanno fatto muovere da video perché effettivamente sono due tech team comici quindi ci sta due spot comici quarto match qua si sparano in fuori d'artificio Men Survivors Challenge Match molto meglio della sua controparte femminile ha mostrato tutto quello che questo match può offrire eliminando completamente i limiti che questo match può avere mettendo in scena un match sensazionale con tutti i 5 lottatori che sono andati a Tare Milan mostrando gran parte dello repertorio ma soprattutto con mosse combinate che erano mancate nel primo match femminile tanta esplosività agilità nessun bocce e non era scontato visto che erano i 5 bei spot sono il grande vantaggio di questo match che ha avuto molti più punti del match femminile nel match femminile abbiamo avuto solo 5 punti questo match abbiamo avuto 9 con JD McDonough che è l'unico che è rimasto a 0 punti ma anche lui si è fatto vedere soprattutto nel finale vincitore giusto e che ha vinto nel suo stile ovvero d'astuzia match vinto da Grayson Waller con 3 punti match è cominciato a dare un 9 meno candidato a miglior match dell'anno Axiom vittima sacrificale praticamente Axiom è stato schienato da tutti ogni persona che ha fatto un punto un punto l'ha fatto schienando Axiom è stato un po' l'agnello sacrificale però anche lui si è fatto si è fatto i suoi punti quindi Joe Gacy 2 punti Axiom 2 punti JD McDonough 0 punti JD McDonough scusate 0 punti Carmelo Ace 2 punti e Grayson Waller 3 punti 3 punti 3 punti questo match ha eliminato secondo me quello che potrebbe stonare in questo match qua no? gli ha eliminato i difetti cioè questo match potrebbe avere i difetti magari del minutaggio magari a gente a chi non piacciono i match a tempo che ci sta per carità il discorso del magari ha eliminato anche secondo me la cosa più importante è il discorso della magari non mi piace il fatto che uno sta fuori un minuto e mezzo però quando ne scrivi due di fila effettivamente se uno ci pensa anche nei ladder match uno magari fa uno spot e quell'altro sta fuori per un po' perché si è fatto male il concetto è quello lì e nel frattempo però c'è sempre un po' di dinamismo all'interno addirittura ad un certo punto c'erano 3 dentro la cosa di Plexiglas e questa è una cosa che funziona tantissimo cioè questo match ha eliminato nel primo incontro ero molto dubbioso perché ho detto cavolo questo match ha più difetti di quello che pensavo perché pochi spot poche mosse combinate pochi punti perché sono i punti alla fine quello che rendono tutto più appetitoso perché vedi cazzo quello è quella a 2 io sono a 0 devo fare punti qua per esempio Grinson Wall era a 0 appena entrato appena entrato era schienato i due di fila era già in vantaggio e quindi funziona quindi secondo me questo potrebbe essere uno dei migliori match dell'anno attenzione comunque andiamo al main event Brombrecher contro Apollo che questo Brombrecher che difende il suo titolo NXT incontro molto maschio con tante prese di potenza e prove di forza ma soprattutto con i due lettatori che lottano a specchio avendo lo stesso stile di lotta lo stesso fisico la stessa potenza praticamente quando uno faceva una mossa o un volo dalla terza corda che dir si voglia subito dopo anche l'altro faceva la stessa mossa perché sono praticamente identici al match però è mancata la connessione con il pubblico che purtroppo questa è una cosa un po' comica è arrivata cioè praticamente quando è arrivata il match è finito 10 secondi dopo cioè il pubblico ha cominciato a cantare il match è finito ma soprattutto il match non ha avuto una parte finale con 0 intensità 0 falsi finali da parte di Apollo Crews che si vede svanire il suo sogno vince Breaker bene ma non benissimo match è cominciato a dare un 7 e nel post match arriva l'attacco di Grayson Waller da Superman Breaker apre le porte alla fight tra i due che secondo me ovviamente arriverà con NXT New Year Evil che sarà inizio ovviamente di gennaio il 4 gennaio se non sbaglio quindi ecco non mi ha è il classico match di Breaker prese di forza prese di potenza voli però in questo match questo match ha avuto una parte iniziale e una parte finale la parte finale non è esistita e Apollo Crews il sogno della vita io sono stato NXT non ho mai vinto nessun titolo da NXT a differenza del Mega Rost bla 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 match normalissimo noi prima mossa di Breaker potente finisce il match non mi è piaciuta questa cosa per niente visto che io stava vedendo per Apollo Crews ma Apollo Crews è uno dei lottatori più sottovalutati di tutta la WWE visto che ha letteralmente qualsiasi tutto agilità fa voli fa moonsault fa prese di potenza ti tiene così Brandbreaker secondo me è molto sottovalutato potrei anche dire che gli avrei dato il titolo io personalmente ma io sono cioè io Apollo Crews lo vedo proprio con la valigetta in mano gli farei vincere la valigetta da Money in the Bank però vabbè questo è il mio fantasy da WWE e finito viene già finito quindi alla fine dei conti era questo il succo del discorso era solo una cosa in questo evento perché c'è un motivo perché tutti i match erano stati costruiti un po' così l'Aven Survivor Challenge come stipulazione funziona sì o no? secondo me sì tantissimo non come viene fatto nel match femminile il match femminile è quella che ha vinto quella che è stata schienata più volte pochi punti poche emozioni invece guardatevi se uno non ha visto questo evento guardatevi il match femminile e subito dopo quello maschile e capite tutto il discorso che sto facendo il match femminile il match maschile annulla tutti i limiti che ha il match femminile e soprattutto aggiungerei una cosa per rendere questo match c'è un proprio tipo l'InSL l'Inmission Chamber la Rumble una stipulazione da aggiungere in un evento come Deadly ogni anno c'è questo match io lo voglio rivedere assolutamente e vi spiego il motivo prima cosa aggiungerei toglierei le squalifiche cioè pensate questo match pensate al match maschile con l'aggiunta di tavoli sedie scale diventa match della madonna cioè secondo me se togli le squalifiche anche perché è un po' strano perché non c'è il count out tu puoi stare fuori quando tu vuoi ovviamente anche perché ci sono 5 lottatori però ci sono le squalifiche fa un po' stavano questa cosa quindi eliminevi il discorso delle squalifiche così magari anche uno che ha zero punti usa una sede gli spacca tutti gli schina tutti potrebbe essere una soluzione molto interessante e soprattutto questo match aveva un po' il problema del first contender quindi per esempio nei pronostici io ho azzeccato sia match femminile che match maschile match femminile era ovvio match maschile Carmelo Eise era l'unico altro che poteva vincere però col first contender è tutto un po' più prevedibile ma pensate questo match con i titoli in palio cioè magari prossimo anno rifanno Deadline e io spero lo facciano lo facciano perché è un match che voglio assolutamente rivedere pensatelo tipo con il campione NXT che difende il titolo nell'Iros Forever Challenge secondo me sarebbe una gran cosa col titolo in palio quindi anche il campione molto più in difficoltà lo spero sinceramente perché vedere ogni anno first contender no però col titolo in palio potrebbe essere veramente potrebbe l'ANA WB potrebbe soprattutto NXT potrebbe aver trovato un grande diamante prezioso io non ho altro da dire il mio voto di NXT Deadline è sette e mezzo è ovvio che il più grande difetto di questo evento qua è la costruzione dei match perché a parte l'Iron Survivor Channel maschile e femminile che ovviamente era il clou dell'incontro il pretty dead è stato costruito in una settimana Alba Fire Islado e Ayradon di base è stato costruito in due segmenti Baron Breaker contro Prodokius poterono dare molto di più quindi ecco mi aspettavo una costruzione un po' meglio ecco scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo evento se vi è piaciuto se non vi è piaciuto pagina Facebook profilo Instagram iscrivetevi al canale mettete un mi piace attivate la campagna delle notifiche scrivetevi anche nei commenti se secondo voi l'Iron Survivor Challenge funziona come stipulazione o no ci vediamo alla prossima puntata con il Dalle che partecipava all'Iron Survivor Channel sia maschile che femminile tra uno di grazie 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 a tutti